Ciao ragazzi siamo ritornati in questo nuovo video e oggi vorrei un po' spiegare le cose di questo mese perché avremo molte cose nuove. La prima cosa è che abbiamo finalmente compiuto i 15 iscritti proprio oggi. La seconda cosa è che domani farò la recensione di un monopattino elettrico poi uscirà una nuova serie sulle piante, questo sarà uno spoiler perché verso il 15 d'ottobre la farò uscire che parlerà un po' di una serie che io metto dentro le piante e poi lì si vedrà tutto poi vi volevo dire che subito dopo questo video ne faccio uscire un altro che consiglierò un libro che sarà quella di Beatrice sotto sopra per chi vede prima questo video e non vede l'altro e vorrei ringraziare tantissimo che siamo arrivati a 15 iscritti perché ci abbiamo messo un anno e sono felicissimo finalmente i 15 iscritti. Vabbè vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare il like e ci vediamo al prossimo video. Ciao da EMA11 Ciao da EMA11 Ciao da EMA11 Ciao da EMA11